oggi è protagonista insieme a lei anche lo zafferano lo zafferano c'è la storia che parte dal medio oriente fino a qui c'è una storia di uno un uomo un po curioso che ama lo zafferano questa è un'altra cosa ne faccio grandissimo uso in tutte le mie cucine ovunque io giri mi piace moltissimo perché è un prodotto che ti fa come cuoco mi fa sentire ricco e mi e chi lo consuma chi consuma i piotti i piatti allo zafferano si sente gratificato e ricco perché perché è un prodotto ricco con tanta storia ecco delle cose che ha assaggiato oggi quale ha apprezzato di più le dico subito sono le due cose ma tutto buono per carità di dio al primo posto la mamma di tutte le polpette le pallotte casciovo qui un po più ricche perché ci hanno messo lo zafferano ma io faccio un corso sulle di otto ore sulle polpette questa è la mamma di tutta la seconda cosa perché proprio tradizione e la zuppetta di ceci irresistibile il gelato per carina del gelato tutto il resto poi buono di livello ma cari signori quella quella zuppetta si chiama comfort food cibo che dà conforto mi fa star bene chiamavano anche cibo dei poveri piatto popolare quanto è attuale oggi sì io faccio moltissima cucina di recupero tantissimi piatti ma dico giro per il mondo ristoranti plazioni col pane da fermo adesso a milano e ho una facciamo una cena quattro mani con claudio sadler due stelle michelin e uno dei miei piatti è un pan cotto porcini zafferano uovo e tartufo bianco e lì il pane la base la base è il pan cotto il pane da fermo là dove c'è stata povertà c'è più gusto perché la gente si doveva ingegnare no a dare gusto con niente allora sa riconoscere le piante aromatiche le erbe spontanee tutte queste cose qui e lì c'è un risultato nettamente superiore a qualunque cosa che può creare uno chef è giusto Grazie.